Sono il professor Vittonschi Sculacciotti Che cacchio guardi Che cacchio guardi Tu Gionnino Ehi Non mi fa arrabbiare Io sculaccio tutti quanti i bimbi cattivi E ci fa i tamburi con i loro culetti Nella mia classe non tollero sciocchezze Tu Papera Questa cos'è? L'Europa? Questa scema dice che l'Europa Questa è l'India F Si vattene piangendo dalla tua mammina Vedi che non si riconoscere l'Europa dall'India Usa Brava brava Questa invece cos'è? Questa? E l'Australia Brava bravissima Questa qua è l'Australia Brava brava E una bella a più Per me ovviamente 120 dollari in tasca a mese E sto diventando ricco Grazie Ma questa è la nostra scuola Ma è un rottame di scuola Deve essere una scuola grossa bella Disegna un fiore Ma che siamo in prima elementare Che dobbiamo disegnare i fiori Questi hanno 30 anni Fra poco E ancora a disegnare i fiori Vabbè Meglio che non mi arrabbio Allora Disegno un fiore Questo qua è un fiore Si brava A più Disegna una nuvola Il mio cane Ha mangiato I disegni Ma valla a raccontare A tua zia Questa Questa scusa F Fate una linea Che connette i punti E questo Mi stai Ma mi stai pigliando in giro? Mi stai prendendo in giro? Questa è una linea Che connette i punti? Questa è una faccia di cavolo Come la tua F Bene Dicevo Molto bene Che nazione è questa? Il Canada Hai osato dire Infatti si è il Canada Il Canada Questa nazione Bravo Bravissimo Dopo un bambino Ti fa la torta di compleanno Anche se non è il tuo compleanno Disegna Un mezzo di vapore Ad acqua No aspetta Un mezzo di trasporto D'acqua Sì E questa Quella Barca Va bene La forma Della terra E' piatta? Vero La terra E' piatta? Ma allora sei cretina Sei cretina Che la terra E' piatta Cosa cavolo Scrivi sui miei compiti Va via Via F E oggi E' il giorno Del progetto Di scienze Avete portato Tutti voi Scarapaggi L'occorrente Perfetto Allora Per fare il progetto Bello del vulcano Dove mettere Prima Un poco di liquido Viola E non esagerare Scemotto Ecco Un altro poco Un altro poco Ancora Basta 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 Perfetto Un bel vulcano Facciamo fare una bella esplosione Questo si che è uno studente modello Anche se ne devo fare io Sti cosi Di Versa un po' di quello Ecco Metti un po' di quello E basta Basta Ecco Bravo Bravo Boom E anche il vulcano L'ha fatto La puzzetta Facciamo fare la puzzetta Anche a quest'altro vulcano Pi 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 E b Ed è rutta 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 Il vulcano Devi ruttare Il vulcano rutta Non è rutta Ignoranti Bene Una più a voi E 120 dollari A me Yes Ma andiamo avanti Disegna Una mucca Questa qui È una mucca capra Sei una caprona Una caprona Con i capelli neri E con gli occhi Una rana È una rana Guardatela Certo perché questa qua Capito è la mucca E queste sono le zampette Sì ecco brava Sì è una mucca F F Torna da mammina Disegna un oggetto Che vola E beh È il razzo vola Il razzo vola Quindi sì Si vede che ha studiato Tutti gli anni Della sua vita Per capire che un razzo Vola Vabbè La monnalisa Famoso dipinto È Un tipo di cibo La monnalisa È un cibo Certo Noi andiamo a Parigi Nel museo dell'Uvra A mangiare E mangiare il quadro Della monnalisa Perché è saporito Tutti lo fanno Certo Via Capra Sei ignorante Ma caprissima Sei una caprona Una capraccia Sei Tutti capracci Questa scu Ma l'importante è che mi pagano Che cacchio me ne frega Tessi ignoranti L'importante è che mi prendi i soldi I soldoni Molto bene Allora Andiamo avanti 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 Un po' di geografia Geography now Insieme a Vittoroschi Sculacciotti Chi devo sculacciare oggi? Atlantis Atlantide Il Sudafrica Adesso è diventato Atlantide Eh Beffe Andiamo avanti Ciao paperella Che cos'è questo? Un mucchio di ghiaccio Eh la conoscete la barzelletta Della papera Che dice che il Canada È un mucchio di ghiaccio? No Perché questa è F Vediamo sto scemo qua Che viene con i capelli rossi Emo che dice Ah questo è la Russia La Russia Perché ha i capelli rossi Come la Russia Per fè Bravo Bravo Lui ha studiato Gli altri invece sono ignoranti Quanto delle salsicce Appena uscite dalle buste Ecco Cioè non le salsicce A posto del cervello Ah la nostra scuola sta crescendo Sempre sempre di più Adesso possiamo costruire Che cos'è questo? Upgrade Abbiamo costruito una sala giochi Ma non mi Ma gli alunni devono soffrire Ah che bella Ecco perfetto Demolite sta Sto parco giochi Sto parco giochi E ampliate la scuola Ah Perfetto Nomina La parte del corpo indicata La mano Brava Brava bimba E la mano Sì Vallo a dire Quelli di questi Sono delle uova Che si Ah Chi fa le uova La mucca non le fa La mucca non fa le uova Il Il Vivi strello Non va le uova E quindi la tartaruga Fa le uova Sì La tartaruga fa le uova Brava sì Che cacchio festeggi Che sei comunque stupida Qual è il Il Nome comune Del Ah del composto HC00NA La matata Hakuna matata Ma la kuna matata Nel tuo orecchio La metto La kuna matata La metto qua E faccio fare Eeeh Così Eeeh Datemi soldoni Perfetto Prossima classe Prossima classe Qual è il nome Di questa figura Questo è un ottagono Perché ha uno Due No è un esagono Ha sei A sei lati Sei lati E tu mi scrivi Bob Forse perché Tuo fratello È un esagono Che si chiama Bob F spaccata Completa Con Il Plurale Di questo nome Bush Brush Brushes Dovrebbe essere corretto Sì è corretto Che ha cancellato il compito How many There was no question So I get An a più Sì un a più Un a più Nei tuoi sogni Super F Sei un super idiota Ecco cosa sei Cacchio Cacchio Cacchino I compiti In classe mia Ma meriterebbero Di essere mandati Dal preside all'istante Aspetta Ma sono io Il preside Ma questo cos'è qua Io volevo capire Questi altri cosa sono Cioè qua si gioca al campo Ah devo guardare la pubblicità Hai capito Devo guardare la pubblicità Ce la guardiamo Anzi no no Non l'ha fatta vedere Perfetto È tutto a posto Ancora ste uova Vediamo se sono rotte No non è rotta No aspetta No era rotta Scusami Come posso aver sbagliato io Vittoschi sculacciotti Questo non è rotto E questo invece è rotto Bene Ma io voglio qualche livello Che ci sia più pepe Più pepe Non sta roba schifosa qua Che resta roba Contro la le uova Ci vogliono cose degne Della mia Della mia esperienza Ma questo cos'è E la caffetteria Si mangia Se ho tre biscotti E ne mangio uno Quanti Quanti biscotti Mi rimangono Non abbastanza Beh ha ragione Nella maggior parte Dei casi Ma in questo caso No 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 Si divertono Ehi scemi Questo è Joker Raga è Joker Vedete il clare di Joker C'è capelli veri Quanto rimane Della pizza Tre quarti Ma se ci sono Già tre quarti E ne mangio un quarto Rimangono tre Ah no Sono tre quarti Sì è vero Ha ragione Ha ragione Sono scemo io Allora calcola Nove meno quattro Nove meno quattro Lo sanno anche gli asini Che nove meno quattro Fa Cinque Cinque Quindi è sbagliato F è spaccata Datemi soldoni Grazie Oh Divento sempre più ricco E poi sti soldi qua Li devo spendere Per questa schifosa scuola No ovviamente Per farmi fare un massaggio Alle chiappe Quello no Quello no 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 Soltanto la scuola Dobbiamo spendere Sì sì Ma che me ne frega A me della scuola Prossima classe Quale paese Appartiene La Groenlandia Blueland Perché si chiama Green Perché si chiama Green Allora Blueland F Questa è la bandiera Della Francia Certo Certo C'è proprio scritto qua Francia Falso È il Brasile Quello Ma sei ignorante Mark Il vecchio presidente Degli Stati Uniti Degli Stati Uniti D'America Barack Obama Michael Jackson Colonnello Sanders Lo sanno tutti Che il colonnello Sanders Non è vero Obama Brava Brava Annazzi Ci volevo mettere La F Aquila Perché mi stavo Un pochino qua Però Vabbè Signori Per favore Voglio fare Qualcun altro Voglio fare Ecco qua No Voglio fare La No Ma Scusate Ah ma Quindi posso Ancora apriare Di più No Ma la scuola È al massimo Eh no Il parco giochi No Apriamo la caffetteria Non ho bastato I soldi Per apriare La caffetteria Mannaggia La miseria Ma scuola Posso cambiare Insegnante Cosa Sono questa Aracchia Io Io Il professor Sculacciotti Vitto Sculacciotti Sono sta scema Ma che cacchio No Però per vedere gli altri Devo pagare la pubblicità E cioè Devo guardare la pubblicità E non voglio E sta pubblicità No Non la voglio vedere Moving Aries Colled Ah l'area che si muove È chiamata vento Pioggia O scorreggia Beh L'area che si muove Potrebbe anche essere Chiamata la scorreggia Se è puzzolente Ma no Non è la Non è la pioggia Comunque È il vento F Quale Pianeta Del sistema Solare Agli anelli Saturno Bravo 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 Gli anelli Quindi non ce li ha in testa Vediamo se questa qua C'ha gli anelli in testa Materi Spulled to the ground Ah sì La materia è spinta Sul pavimento Grazie agli alieni Agli alieni? No alla gravità La gravità no No E agli alieni Ovviamente Tutta quanta a caso degli alieni Hai ragione È colpa degli alieni F Va a piangere La scema La scema Va a piangere Va bene Prossima Soldi 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 Datemi soldi Ancora scienze Con vulcano Oh Allora No Ho sbagliato No Vabbè Vediamo che succede Se lo facciamo sbagliare Facciamolo sbagliare A questo Sbaglia Che fa Non fa niente Ah ha fatto la puzzetta Il vulcano Vabbè Non me ne frega niente Non me ne frega niente Anche se non mi pagano Voglio vedere Lo studiate che sbaglia No però questa qua La facciamo andare bene Ecco La facciamo andare bene Così Così Un altro poco Ecco brava Ha fatto una bella I coriandoli Spare i coriandoli Ecco Questo vulcano è felice Perché sta festeggiando Con i coriandoli Il vulcano Ma questo è facilissimo Questo pur di scemi Riescono a farlo Cioè se sbaglio questo Ah Puzza Festa Bene Io sono così fiero Di voi Bimbi miei Prossima classe Prossima classe Che cosa dobbiamo fare Allora completa la parola Fire Fire Non si scrive con la y Si scrive con la i Fire No Io ho messo a più Ma sono deficiente Cerchia Il verbo della prossima frase Bob saltato nella piscina Bob è il verbo Certo Il Bob bobare Tu bobbi E gli bobba Noi bobbiamo E voi bobate Certo Il verbo Il verbo è bob Scema Ma questi due sono uguali Sono uguali Sono gemelle Vediamo se quella però Non è scema come questa F Allora Scrivi Una parola Con le seguenti lettere R F C A S Scarf E Scarf Esatto Scarf Significa scaldarsi Bravissimi Bimbi miei Anche se due Hanno fatto schifo Vedete questo Questo scemo Sta ridendo Perché ho sbagliato Il voto Mannaggia Mi fate confondere Con la vostra stupidaggine Posso ampliare qualcosa Ampliamo la caffetteria Ecco Anche il negozio di ciambelli Ora si che si ragiona Nella scuola Di Vittonschi Ci deve Scuola Ciotti Ci deve essere Per forza Il negozio di ciambelli Il sud Ancora Atlantide Ma questa ancora Non ha imparato Che quella non è Atlantide Questo che dice La Cina È il polo sud La Cina La Cina è il polo sud Sì Ma veramente Lo hai scoperto Oh mamma mia Non lo sapevo F Lo sapevo Invece sapevo Che devi prendere F Questa invece Madonna Ancora questa L'Australia Brava Sì è la quarantesima volta Che dici che è l'Australia Meno male che l'ha imparato Quindi invece Mia la scema Per la cinquantesima volta Ancora non ha capito Che l'Atlantide Non esiste Ah Prossima classe Disegna una macchina Apple Sì Sì Ha ragione Ha ragionissima Ha proprio ragione Joker Ha disegnato I tre musicisti Ronald McDonald Tom Cruise Pablo Picasso È stato Ronald McDonald Però Però vabbè Non lo diciamo in giro Disegna Disegna Tre linee Cioè tu qua su Sta scritto Disegna tre linee E ne disegni due Due Siamo in quinta E tu non sai fare tre linee Ma perché c'era un compito Con scritto di segna Di E È uno scherzo F Ma è te Il mio test Era corretto Ve lo giuro Aspetta Adesso possiamo decidere Se mandarla dal preside Perché vedete Si sta arrabbiando La scema La scema Si sta arrabbiando Vuole denunciarci Oppure pagare Trenta Ah per mandarla Ok Se paghiamo Trenta Che succede No Non ho capito Sbagliato Dovevo per forza Guardare la pubblicità Cioè sto gioco Oppure se paghi Per la pubblicità Cioè per non vederla La devi vedere lo stesso Ecco Ma che cacchiolo Completa la frase Con le corrette lettere Allora Questo è un fiorellino E quindi FL E fa Flower Yes Flower Ok Completa con il plurale Bus Bus O Or S No Si dice Bus Sia per il plurale Che col singolare Quale Quante Quante sillabe Ci sono Della parola Rocket Ro Cat Due Si Ha ragione Infatti Questa è la scema Che prima Ci ha fatto Ci ha fatto sbagliare Il copito Sta Dora L'esploratrice Dora la scema Eh Ancora sta scuola Allora no Però adesso voglio ampliare Ancora di più Il ristorante E vai Questa sicca è una caffetteria Con i fiocchi C'avevo la pizza Le malattie fritte Il gelato E anche le ciambelle Tutto quello che un segnante Possa mai desiderare Ovviamente Me li terrò tutti quanti Per me E non darò nemmeno Una briciola A voi Scarafaggi Bene Allora Adesso che sono Ho mangiato Mi sento bello 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 Ciotto 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 Posso continuare Il mio lavoro Allora Si va avanti Un erbivoro E un animale Che mangia solo La carne La cioccolata Gli erbivori Mangiano la cioccolata In testa tua Certo Certo Perché la mucca La mucca Pascola della cioccolata La cioccolata La cioccolata I prati di cioccolata Gli alberi di cioccolata Certo Ha ragione F F Sei una Un cigno Con la testa vuota Qual è L'animale Più forte La più grande Forza sulla terra L'amore Tu hai scritto L'amore sul mio compito Allora io Adesso Chiamo Chiamo il centro Terapetico Terapetico Faccio venire qua E ti mando al manicomio F L'amore si è una forza Ma non muove le cose Allora cerchia Ma questo è l'omino Di fallout Cerca il corpo La parte del corpo Che rasa Ah che Che usa il senso Della 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 Questo Le orecchie Il senso Della Dello dito Ecco si Bravo Brava Emma la scema Brava Se non vi iscrivete Vintoschi sculacciotti Out Finalmente Mio giallo libero Posso andare Sì B Dubundi Della Camρη Il senso L'un